Il libro mascherato. Il gioco consiste nell'estrarre da un testo famoso la trama essenziale e riassumerla in modo corretto, ma creando qualche difficoltà di identificazione. Anzi, lasciando supporre che si tratti di un'altra opera. Il titolo deve essere ingannevole e allontanare il lettore dalla soluzione. 1. I fioretti di San Francesco. Viveva con giovanile non curanza, credendo di poter liberamente ed egoisticamente godere di ogni bene mondano. Ma tra gli coloriti fiori ed erbe scopre che si può essere felici solo riconoscendo la comune origine divina di ogni creatura che voli per l'aria o strisci sulla terra. Avvampando l'interno ardore tende la mano aperta verso il cielo, quasi ad affrancare dal male ogni gentile ornamento del creato. Chi è? Non te lo sei mica scordato.